ora ha preso le vitamine mammina i fermenti lattici prende le vitamine joelle tutti i giorni vero i carobin pet nutri plus e flore intero intanto facciamo vedere questa bella cosa che i piccolini hanno fatto grandi passi in avanti hanno tutti gli occhietti aperti tutti questa è la femminuccia nata e buongiorno buongiorno questo questo è piccolo magic magic buongiorno magic come va è aperto gli occhi a questa vita si per togli occhi alla vita magic no ma dai ma guarda ma guarda come ciuccia lui pure ce li ha aperti ora li tiene chiusi perché era ma li hanno aperti tutti quanti questi occhietti tutti li hanno aperti perché fai finta di tenerli chiusi ora quando tu ce li hai aperti questo è nata ecco qui ci abbiamo lasciamela lasciamela questa tetta vieni qua vieni qua che non muori di fame guarda come gliel'avete fatte quelle tette anche io ho aperto gli occhi alla vita guardate che pancini che abbiamo fatto siamo dei piccoli piragna ci stiamo succhiando mamma tutta non posso ne mettere un gemito che lei corre a vedere come stanno una mammina premurosa e lei premurosissima dolcissima e loro sono dei polpettini meravigliosi meravigliosi perché hanno una mamma buona